Pericolo Valanghe per 30 31 marzo e primo d'aprile Le condizioni meteorologiche previste per questo fine settimana che è il ponte di Pasqua saranno all'insegna del brutto tempo con nevicate abbondanti e diffuse su tutti i settori. Il grado di Pricolo Valanghe sarà in progressivo aumento, la giornata maggiormente critica sarà lunedì di Pasquetta con un grado 4 forte nelle zone maggiormente interessate dalle nevicate. In terreno alpino oltre i 2000 metri i forti venti che accompagneranno la fase perturbata determineranno un rimaneggiamento della neve fresca con una formazione di estesi lastroni soffici anche di notevoli dimensioni. Pertanto in tali aree il problema sarà quello della neve ventata. Alle fasce altimetriche intermedie e di fondo valle le fasi di neve e nesta pioggia determineranno un appesantimento e un inumidimento del manto nevoso. Il grado di Pricolo Valanghe Pricolo Valanghe Pricolo Valanghe